Ne esce uno 0-0 che fa felice il popolo rosso-blu E di Di Bartolomei Capello lanciato da Altafini 35esimo quest'occasione di Chinaglia Allerner Altra punizione di via, testa di Zigoni e parata di Spalazzi Ancora l'assalto il Cagliari, questo è Brugnera Ma il portiere barese Spalazzi parla Ecco ora un tiro di Brugnera e Spalazzi devia in angolo Tende a giocare e Riva è sempre il più insidioso Ha dato un bel pallone che Gori gira a rete ma para Spalazzi Ormai il Cagliari vede lo scudetto a portata di Bento E' già arrivata da Roma la notizia che la Lazio Contro di Rotterdam con il Magdeburgo E l'obbedo